bella a tutti ragazzi con un nuovo video oggi vi farò vedere come aggiungere la percentuale batteria dall'iphone x in poi con ios 14 quindi ci vediamo subito con il widget che bisogna utilizzare ok ragazzi il widget che bisogna utilizzare è il widget della batteria quindi voi avete tre stati quindi quello piccolo medio e quello grande io vi consiglio quello medio perché almeno in questo qui potete vedere proprio esattamente la percentuale della batteria invece qui come potete vedere non potete intravedere la percentuale della batteria quindi andiamo ad aggiungere questo widget che secondo me sarà molto utile sia per me e sia per tutti voi questo qui era un video molto breve per chi non lo sapesse quindi ricordateci un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella